Ciao a tutti, oggi uno svuota la spesa di Gotà ho preso un bel po' di prodotti in offerta e iniziamo subito con spuma di champagne ammorbidente per il bucato questo è frescarugiata è molto 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 buono sa veramente di fresco poi sempre della linea spuma di champagne questi non li avevo mai visti per me sono nuovi e il sapone intimo allora questo è quello lenitivo con latte di avena ed echinacea e questo invece è quello delicato con sempre il latte di avena e l'olio d'oliva poi ahimè ho la tinta questa è quella che prendo sempre io della L'Oreal Excellence Cool Cream praticamente con le tonalità fredde poi omino bianco candeggina delicata questa per disinfettare il bucato e poi elimina anche le macchie sì tovaglioli belli colorati semplici le salviettine per pulire le lenti degli occhiali e poi volendo puoi pulire anche lo smartphone puoi pulire anche lo schermo del computer lo schermo della televisione insomma sono un po' tutto fare poi salviettine struccanti questa è la linea di Ticotin speedy care queste sono struccanti per pelli delicate quindi non bruciano poi le goccine per gli occhi gocce oculari occhi irritati ed arrossati azione idratante e lubrificante poi il dentifricio ho preso sempre della linea Sensodyne però il Nourish vediamo che differenza c'è sacchetti per il freezer questa è la grandezza media la sabbiolina per bianchina eccola qua poi bastoncini cotonati i cotonfiocchi insomma l'anticalcare Bioform non credo di averlo mai preso questo è sia anticalcare che anche igienizzante lucida rinnova e igienizza vediamo se poi è vero ora il B il colluttorio poi da provare ho preso questi due doccia schiuma della BioLis Nature allora questo è al melograno melograno antiossidante e idratante con 98% di ingredienti naturali e poi anche questo sempre 98% di ingredienti naturali però questo è all'aloe aloe vera proviamo adesso qui non lo apro non sono riuscita a sentire i profumi perché c'è la chiusura del tappo e quindi non si riesce ad aprire allora poi pazzoletti brillantante però la vasto video questo è molto buono ed è di quello della Winnie's quindi quello biodegradabile biodegradabile poi dello scottex eccolo qua con i disegni di halloween il detersivo per il bc bc net questo quello profumoso e al profumo di lime buono quindi bello fresco poi in offertissima il detersivo per la lavastoviglie il flacone grande grande da 42 lavaggi ed è questo al limone profumo al limone e per finire il lisoform anticalcare per il bagno ecco qua per un totale di tantissimo sì anche se ho preso tanti prodotti in offerta è sempre comunque tanto 52 euro tondi tondi e vabbè è io come sempre vi ringrazio per l'attenzione ciao ciao